Con l'assassinio di Théo Van Gogh i jihadisti feriscono l'Europa. È il primo di una serie di atti che avrebbero insanguinato le nostre città e i nostri quartieri. L'odore più buio e oscuro di un'ideologia che si propone di sottomettere l'intero pianeta, offendere i musulmani e anche le altre fedi, sciocca l'Europa e innesca una serie di conseguenze nel nostro continente e anche nel nostro paese che causano paura collettiva. Da quel momento abbiamo scoperto noi europei che la jihad era anche un nostro nemico.